Grazie Nel numero 86 invece Pasquale Gigliotti Grazie 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 Siamo Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' stato vicino tre giorni, ci siamo preparati per bene. Non so con che dire. E' il primo salmo che faccio quest'anno. Ho cominciato con due salite, Morano e Luzzi. Tutta un'altra storia. Coringa non me la volevo perdere. Ma adesso facciamolo. Come va, va. Questo è il risultato. Sono contentissimo. La macchina funziona perfettamente quest'anno. Abbiamo fatto nuove cose. E' stato soddisfatto. Bene. Ti lasciamo alla tua gioia, dai. Grazie. Ciao Pasquale. classe 1150 abbiamo detto, terzo classificato Roberto Viatore. Tempo 3.0040. Secondo classificato Domenico Fusto. primo classificato Domenico Fusto. Primo classificato tempo 2.58.81 Pasquale Gigliotti. Grazie.